Ho 21 anni, ho 22 anni, sono parte della giuria giovani. Devo dire che vi faccio i complimenti per questa iniziativa perché già in livello sono tante persone che non vedono la cultura, è una cosa bella. Poi creavo una sensazione per i giovani affinché il mondo giovanile cerchi di evolversi nella cultura e nella conoscenza con una persona ancora più bella. Quindi ti ringrazio per il mio amico fatto della giuria e buona settimana a tutti. Buonasera, io sono Marco Bernissi, sono un avvento di aziendale, diplomato ragioniere, però faccio capire comunque della giuria della poesia perché a me comunque la poesia, la scrittura, sono anche scrittore, scrivo poesie con me dei teatrali e racconti in play, adesso ho scritto un libro di una saga di teatrali. E niente, vi voglio ringraziare soltanto le mie maestri e le mie professoresse italiane che sono state veramente delle ottimi insegnanti che mi hanno fatto provo a avvicinare a questo mondo bellissimo. È un invito che potrei fare agli insegnanti di italiano proprio di continuare questo percorso di istruire i giovani, soprattutto nel capo della storia, con le recenti relazioni che ho dovuto purtroppo sentire, delle valse a proposito di un altro concorso che ho in contatto di una. Molte grazie. 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 Grazie.